Ciao bambini, come state? Spero di trovarvi bene. Oggi ho deciso di leggervi una storia tratta da questo libro, Storie della buonanotte per bambini ribelli, 100 vite di donne straordinarie. Andiamo a scoprire quale personaggio ho deciso di presentarvi oggi. Eccoci qua. Il personaggio che ho deciso di raccontarvi è Frida Kahlo. Qualcuno già la conosce? Chissà. Comunque scopriremo insieme la sua storia. C'era una volta in una bella casa azzurra vicino a città del Messico una bambina di nome Frida. Sarebbe diventata una delle pittrici più famose del ventesimo secolo, eppure rischiò di non crescere mai. A sei anni per poco non morì di poliomielite. La malattia la lasciò per sempre zoppa, ma questo non le impedì di giocare, nuotare e scatenarsi come tutti gli altri bambini. Poi, a 18 anni, rimase coinvolta in un terribile incidente da autobus. Rischiò di nuovo di morire, e di nuovo trascorse interi mesi a letto. Sua madre le fece costruire un cavalletto speciale per permetterle di dipingere straiata, perché non c'era niente che Frida amasse di più della pittura. Non appena fu di nuovo in grado di camminare, andò a trovare l'artista più famoso del Messico, Diego Rivera. Che ne pensa dei miei dipinti? Gli chiese. I suoi dipinti erano stupefacenti, audaci, geniali e bellissimi. Diego se ne innamorò e si innamorò anche di Frida. Diego e Frida si sposarono. Lui era un uomo grande e grosso, con un gran cappello e lei sembrava minuscola al suo fianco. La gente li chiamava l'elefante e la colomba. Per tutta la vita, Frida dipinse centinaia di splendidi autoritratti, spesso raffigurandosi circondata dai suoi uccelli e dai suoi animali. Ancora oggi, la bella casa azzurra in cui viveva è come lei l'ha lasciata, piena di colore, di gioia e di fiori. Alla prossima lettura!